No, no, per favore, Matti, non venire, Matti, te lo dico, per favore, non venire, che se succede come prima, che non so qual è la tua skin Ah, ok, per favore, te lo dico, non venire, che se mi prendono accidenti, per sbaglio, ti devo uccidere, e poi devo esercitare il casino Comunque, tasso, prima, fa uno, non ti posso regalare il pass, per due motivi, uno, non ho la tua amicizia, da almeno tre giorni Due Il pass costa 10 euro reali, 9,99 Non costa a bubac Ah, ok, vai Io sto alzando a granata Non posso No Mi partendo ha detto fino alle quattro, ma una partita di Warzone dura 20 minuti Eh Vabbè, dipende, non dura sempre di 20 minuti Se muori appena spawni, la non dura 20 minuti A meno che non speravi al goulash Per sapere una cosa Ma si chiama, si chiama goulash Dove... Ah, goulash Ah, goulash Vabbè, sì Goulash Ah, no, c'è qualcuno che lo sa 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 Ora devo mutare un po' di persone perché qua ho noto un po' di microfoni della Chico Eh, eh, eh Allora Mute 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 Sia Valsoio Cicco riso Scicco riso Senza lattosio Sicco riso Sicco riso Ma senza lattosio Una nuova linea di crema spalmabile Per chi mangia con gusto E sentirsi bene e libertà Sono un po' in campo Mi sento un po' in campo Sicco riso Ma senza lattosio una nuova manca adesso anche lui ha detto sia balzoia sia balzoia chicco riso senza la cosa una nuova linea di crema spammabile ragazzi io la ricamo ricamiamo boh facciamo gesù agitamo il mio lavoro accopo di davvero ma che quello di rango 610 ma che ci avrebbe ma che ci frega ma che ci frega saranno fortissimo e spelli espelli e spelli diventare subito perchè sono solo il mezzo amore si si fai vai x e eeeh vai io e speri in giustizia e poi vai ora puoi avviare io voglio bene oh oh ahi no ma no vado ma no so caduto a niente come si fa a rigenerarsi diciamo non ho fatto suicidare no avevo messo devo mettere stessi vengo dai dai perché non mi fa rigenerare facciamo un altro parkour che invito anche un mio amico e lì piace il voto ma benissimo no esatta ma dobbiamo se ci darci le forze che aspettiamo a cavallo cavallo come fai a mettere r3 che è brutto ok grazie eh stelta no ma perché mi fa capire ma che sta parte qua difficile in quella verde difficile è tutto equilibrio è tutto equilibrio si ho fatto ho fatto l'angolo no ma dai sei serio sentiamo bello pittà è la vendetta vai 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 facciamo 1 contro 9 vive invece sassione no dai non mi sparare non mi picchiare la vera va dai bassa figliolo 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 no dai ma già è ricaduto ma dai per favore grazie no ti sei salvato angelo grazie che sono andato su quello verde grazie mille bro prego bro adesso di caduto 28 secondi non ci credo la passiamo la lunga passola raga parkour mai più raga raga parkour mai più non è vero dovevi fare il touchpad e ucciditi ero io ti ho passato sul mio cadavere brutto non è vero tipo fallito ma vai va 4803 no no bro i speak italian i speak so and so french english and deutsch i speak deutsch english italian french je m'appelle angelo i am no my name angelo mi chiamo angelo e basta dove siete voi qua qua io vi uccido a tutti quanti dai dove siete eccolo eccolo no come come trovato il modo per il nord nome o di spiegare io non lo faccio perché io sono già troppo forte quindi non c'ho bisogno di allenamento mi dica ovviamente si scherza ragazzi tutto quello che vedete qui è sottoposto a normative e legislative nessuna skin di fortnite è stata maltrattata in questo video ragazzi che angelo non fare anche tu un provino per un no 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 niente io entro solamente i team che mi pagano 10 euro all'ora c'è ma il caso io sono un pro player uno di quali troppo forte uno di quali troppo forti che appena mi vede una persona mi vengono subito a pusciare a quanti vengono subito a dire ma chi è questo spariamo di sfaccino dobbiamo mantenere il saltamento sociale che ho anche l'ho scelgato vergogna niente è lontanissimo sì ma vogliamo dare la scena io ho anche un altro medico e anche delle vendere quindi sono a cavallo a cavallo perché sei dietro il mese se a cavallo il cavallo più che lo vado ecco il cavallo è un po' di cappare gatto il cavallo è un po' di cappare